cari amici di storie parallele bentornati siamo giunti alla quarta puntata del nostro ciclo di lezioni dedicate al studio del gesù storico attraverso le fonti ebraiche ovviamente in rapporto alla storia del cristianesimo sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto di questa puntata perché rappresenta diciamo la seconda parte del nucleo che avete sentito fondamentalmente nella nella terza lezione il professor di taranto con una memoria davvero formidabile è riuscito a guidarci attraverso i testi e a fornire un punto di vista ebraico in questa rilettura di testi e come vedrete scopriremo che alcuni elementi che consideravamo come distintivi e innovativi del del cristianismo rispetto all'ebraismo in realtà fossero già presenti al loro interno quindi una rilettura dei passi evangelici e dell'atteggiamento di gesù in rapporto appunto all'osservanza lachica e alla tradizione che era già conservata prima di lui nell'ebraismo quindi buona visione mi raccomando commentate condividete e fateci sapere insomma il vostro parere perché è sempre molto importante buongiorno a tutti i nostri ascoltatori buongiorno a professor di taranto ancora con noi per il nostro seminario buongiorno abbiamo introdotto diverse problematiche che sempre grazie aiuto del professore nella terza puntata in questa puntata proseguiremo e ragioneremo poi adesso vedremo col professore ci spiegherà meglio in termini di di prassi nel senso analizzeremo il comportamento che emerge dai vangeli di gesù alla luce del contesto ebraico e di quello che abbiamo un po anche anticipato a grandi linee fino a questo momento entreremo oggi magari più nel dettaglio dei dei passi biblici appunto del nuovo testamento facendo ovviamente tesoro del dell'antico e della tradizione rabbinica professore io inizierei subito ragionando dove riprendendo dove c'eravamo interrotti nell'ultima puntata ovvero nel famoso passo di isaia 53 del del serbo sofferente che è un po quello che la tradizione ebra e cristiana non ebraica cristiana ha utilizzato per costruire poi tutto la insomma il tema della passione il tema del del sacrificio del di gesù sulla croce a beneficio dell'umanità questa questa qua è una un passo che è stato appunto come lei ben sa oggetto di studi esegetici posteriori anche per lungo tempo e vorremmo chiedere insomma questa idea quanto ha fondamento quanto ha le sue radici nella nella cultura ebraica nella religione ebraica sì grazie ma è giusto concordo iniziare da questo punto ricollegandoci anche a quanto detto nella seconda terza lezione a proposito dei passi di interesse messianico e mi sono arrivate anche privatamente da alcuni ascoltatori richieste in tal senso premetto innanzitutto che il capitolo 53 di isaia contiene l'ultimo dei quattro componimenti poetici noti come canti del servo così chiamati perché incentrati per l'appunto sul cosiddetto eved hashem il servo del signore figura scelta da dio per portare la giustizia alle nazioni come scritto in isaia 42 1 diceva bene lei una vexata questio è un problema nodale intorno a cui ruota però in particolare le seggesi è l'identità del servo la tradizione cristiana come ricordato anche lei legge tutto il capitolo in chiave cristica e qui naturalmente io illustrerò invece i punti essenziali della tradizione segetica ebraica che fa innanzitutto notare che lo stesso isaia a chiarire la questione utilizzando ripetutamente la parola servo come apposizione del termine israele o comunque in associazione adesso viene detto israele mio servo giacobbe oppure giacobbe mio servo israele il servo dunque è chiariamolo subito per la tradizione ebraica il popolo di israele questa in estrema sintesi l'interpretazione tradizionale ebraica è la prima il primo punto di diciamo in cui si riferisce esatto di differenza certo e analizziamo però magari qualche versetto più da vicino importando alcune delle obiezioni a questa linea esegetica e le relative risposte un primo versetto significativo e 53 3 in cui si dice che era disprezzato e rigettato dagli uomini e lo si definisce uomo di dolori conoscitore della sofferenza e la spiegazione qui è piuttosto semplice ci si riferisce come si capisce dal contesto ai re delle nazioni che hanno espresso in passato e continuano ad esprimere disprezzo nei confronti del popolo di israele in esilio e le parole utilizzate sono peraltro simili a quelle che troviamo in un salmo il salmo 44 in cui gli israeliti dicono a dio al versetto 14 tu ci hai resi lo zimbello delle nazioni rilevante nel dibattito esegetico è anche il versetto successivo 53 4 in cui troviamo scritto egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori in questo caso bisogna spiegare che lo scopo dell'esilio della sofferenza di israele è quello di portare la redenzione al mondo intero israele infatti è chiamata in isaiah 49 6 luce delle nazioni orgo in e il suo compito è per l'appunto di portare la salvezza fino alle estremità della terra ad che c'è a aret un'assonanza che si ripete poi anche nel negli apostoli no quando vengono inviati certo certo poi abbiamo trovato un punto di contatto certo e per compiere però questa missione il popolo ebraico dovrà pagare un prezzo molto alto subendo ogni sorta di atrocità alla fine però le nazioni comprenderanno che la dolorosa storia del popolo di israele ha portato beneficio a tutta l'umanità come scritto è scritto esplicitamente qualche capitolo dopo dallo stesso isaiah capitolo 60 versetto 3 le nazioni cammineranno alla tua luce e re allo splendore del tuo sorgere l'esegesi si è lungamente soffermata anche su 53 7 dove è scritto maltrattato e umiliato non aprì bocca come un agnello condotto al macello come pecora muta si noti che la metafora che viene qui impiegata si trova anche nel salmo 44 già citato poc'anzi proprio in riferimento alle sofferenze degli israeliti al versetto 11 è scritto tu ci hai dati via come pecore da macello e tra l'altro si aggiunge e ci hai dispersi fra le nazioni e qui si capisce chiaramente che le sofferenze sono quelle dell'esilio infine come vede mi sto muovendo molto rapidamente fra questi versetti vorrei soffermarmi molto brevemente su 53 11 dove troviamo scritto con la sua conoscenza il mio servo che è giusto renderà giusti molti e si caricherà delle loro iniquità perché è importante questo versetto perché in precedenza il testo ci aveva già reso noto che la redenzione di israele porterà beneficio all'intera umanità ora in questo versetto isaia ci spiega che il modo in cui ciò adderrà israele cioè si farà l'attrice di giustizia presso le nazioni come con la conoscenza cioè insegnando la torà ai popoli del mondo ciò peraltro è perfettamente coerente con quanto affermato da vari profeti lo stesso isaia ai capitoli 2 42 ma anche michea 4 zaccaria 8 inoltre e questo è importante da chiarire il popolo ebraico è chiamato regno di sacerdoti in esodo 19 6 si dice voi sarete per me dice il signore regno di sacerdoti e popolo santo isaia stesso peraltro definisce gli israeliti al capitolo 61 sacerdoti del signore coanea shem collegando significativamente l'espressione con un'altra locuzione mesciartelo cheno che la cei traduce ministri del nostro dio mentre la bibbia interconfessionale a mio parere più fedelmente come servitori del nostro dio come il sacerdote secondo la torà ha il compito di rappresentare il popolo dinanzi a dio e di presentare i peccati della nazione affinché siano perdonati così anche israele in quanto popolo sacerdotale dell'umanità si carica del peso delle colpe di tutti tutti le altre nazioni per chiedere a dio l'espiazione funge quindi in qualche modo da avvocato delle nazioni presso dio vediamo ora come avevo anticipato qualche obiezione a questa linea interpretativa e le risposte relative la prima e più comune obiezione è che il servo sofferente è presentato qui come un singolo individuo quindi si dice non può trattarsi del popolo di israele e la risposta in questo caso è molto netta da parte ebraica in numerosi casi nelle scritture il popolo ebraico è descritto allegoricamente come un singolo individuo a volte israele è rappresentato come un figlio altre volte come una sposa tra l'altro nello stesso isaia 54 1 e persino come un servo per esempio in geremia 30 10 viene detto e tu non temere mio servo giacobbe veatalti era abdiacob ma soprattutto come abbiamo già notato e isaia stesso a identificare esplicitamente il servo con israele in più occasioni in isaia 41 8 per esempio viene detto ma tu israele mio servo giacobbe ma due volte ancora nel capitolo 44 e altrove un'altra obiezione che viene fatta di frequente è che secondo isaia 53 9 il servo non ha commesso peccati mentre non si può dire naturalmente lo stesso di israele inteso come popolo di israele la collettività in realtà ad una lettura attenta si capisce che non si vuole affermare qui che il servo non abbia mai compiuto peccati piuttosto il senso è che il servo viene accusato ingiustamente di crimini che non ha commesso cerco di spiegarmi meglio con un esempio re davide nel salmo 69 versetto 4 dichiara sono potenti quelli che vorrebbero distruggermi e mi sono nemici ingiustamente ciò ovviamente non significa che davide si proclami immune da colpe o che pretenda di essere infallibile solo e non ha commesso il peccato i peccati di cui è accusato una obiezione anch'essa alquanto frequente nel dibattito esegetico e poi che il servo è stato strappato dalla terra dei viventi come si in 53 8 cioè morto e il popolo ebraico invece non ha mai cessato di esistere anche in questo caso la risposta c'è ed è relativamente semplice bisogna però avere presente come ho già detto e ripeto l'intero corpus scritturistico la morte può essere in questo caso come altrove una metafora per indicare la rovina della nazione ebraica in esilio faccio solo un esempio prendendo un passo credo abbastanza noto in ezechiele 37 nella cosiddetta visione delle ossa secche il popolo esiliato senza speranza è descritto come in una condizione per l'appunto di morte e decomposizione tra l'altro a proposito di ezechiele 37 si noti come curiosità che dio si rivolge al profeta con l'appellativo figlio dell'uomo espressione che abbiamo brevemente a conclusione della scorsa puntata un'ultima critica e qui concludo che viene comunemente mossa e che nell'antichità anche gli ebrei credevano che il serbo di isaia 53 fosse il messia poi nel medioevo rashì impose una nuova linea interpretativa volutamente in opposizione alla tradizione esegetica cristiana e per confutare questo luogo comune ancora relativamente diffuso vorrei eccezionalmente citare una fonte non ebraica in particolare patristica e mi riferisco ad origine di alessandria vissuto come sappiamo fra il secondo e terzo secolo uno dei più importanti padri della chiesa che nella sua opera contra celsum riporta un episodio durante una disputa che gli stesso tenne con alcuni saggi ebrei citò queste profezie di isaia e gli ebrei replicarono che tali predizioni si riferivano all'intero popolo di israele qui rappresentato come un solo individuo il quale si trovava in uno stato di esilio e sofferenza quello che ho detto io aggiunsero anche che ciò era parte del disegno divino sto naturalmente parafrasando affinché molti proseliti potessero essere guadagnati grazie alla dispersione degli ebrei fra le nazioni e si riferivano questi saggi ebrei evidentemente alla conoscenza della torah che gli ebrei come abbiamo detto hanno il compito di portare alle nazioni abbiamo dunque da fonte patristica una testimonianza dell'antichità di questa linea interpretativa ebraica e dunque anche conferma della coerenza su questo punto dell'esegesi ebraica è molto interessante perché abbiamo affrontato veramente un tema che è appunto diciamo l'origine del distacco tra i nostri fratelli maggiori insomma come come ha detto lei molto molto incisivamente nella nella scorsa puntata nelle scorse puntate un altro tema professore che sicuramente rappresenta uno dei tratti distintivi del cristianesimo è il famoso precetto dell'amore universale che spesso nella diciamo nella narrazione anche cristiana in generale è ritenuto come un elemento distintivo e forse anche una novità introdotta appunto da da Gesù nella sua predicazione poi in seguito dagli apostoli volevo chiederle se anche questo precetto se anche questo comandamento che appunto come sappiamo dal catechismo è ritenuto anche più grande no amatevi gli uni gli altri come io amato voi diciamo ci viene sempre insegnato così volevo chiedere appunto se questo comandamento ha un qualche una qualche origine ebraica o possiamo trovarla nelle fonti ebraiche oppure è un'innovazione ecco lascio lascio a lei questa questa risposta grazie grazie la ringrazio molto per questa domanda sì ha ragione insomma base del cristianesimo è certamente il precetto dell'amore universale che viene spesso presentato come diceva giustamente lei come sua cifra distintiva ed elemento di stacco fondamentale dalla matrice ebraica e questo nuovo precetto così almeno lo intende una certa vulgata sarebbe anzi il segno del superamento della vecchia legge procedendo con ordine ci sono due passi importanti uno è quello che ricordava lei giovanni 15 12 questo è il mio comandamento che vi amati che vi amiate gli uni gli altri come io vi amati di cui però spesso si dimentica la premessa nei versetti precedenti 9 e 10 è scritto come il padre amato me così anche io amato voi se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore intanto intanto quindi il legame uomo dio è inestricabilmente legato ai comandamenti che per la tradizione ebraica l'ho già detto ma è sempre utile ripeterlo non sono solo il decalogo bensì 613 precetti di cui 248 positivi cioè comandi e 360 65 negativi cioè di bieti rimandiamo su questo punto alla lezione introduttiva e il secondo passo forse ancora più noto è marco 12 e versetti 29 31 c'è uno scriba che domanda a gesù quale sia il comandamento più grande e la risposta di gesù è molto significativa dice gesù il primo è ascolta israele il signore dio nostro il signore uno e aggiunge e amerai il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente e con tutta la tua forza e il secondo è questo amerai il prossimo tuo come te stesso e conclude non c'è altro comandamento più importante di questi plurale da notare quindi che il precetto dell'amore per il prossimo è esplicitamente legato allo scema israel ascolta israele di cui vengono citati sia il primo sia il secondo versetto corrispondenti a deuteronomio 6 4 5 che è la fondamentale dichiarazione di fede dell'ebraismo e anche il precetto dell'amore per il prossimo è peraltro come noto una citazione scritturistica viene enunciato in levitico 19 18 appunto amerai il prossimo tuo come te stesso ma ciò che mi interessa far notare è che rabbia chi va che abbiamo già più volte citato uno dei più grandi se non il più grande maestro del periodo mishinaico lo indica come il più importante principio generale della torà e si tratta in altri termini della regola aurea che implica e sussume in sé per necessità logica l'insieme delle norme questa spiegazione tuttavia estrapolata dal contesto non ci fornisce alcuna precisa indicazione circa l'identità del prossimo che si va di destinatario attivo e passivo del precetto all'opinione di rabbia chi va significativamente contrapposto il parere espresso in forma altrettanto concisa ed incisiva di un altro saggio di epoca mishinaica shimon ben asai il quale riteneva che in genesi 5 1 questo è il libro delle discendenze di adamo se sefer tol dot adam fosse espresso un principio generale ancora più importante si legge nel talmud zeklal gadol misè è una fonte midrashica bereshit rabah cioè il midrash su genesi ci aiuta a chiarire le ragioni della disputa e anche se riusciamo le relative posizioni il nome adamo è qui interpretato non solo come primo uomo ad amarishon bensì anche soprattutto quale figura umanitatis e l'implicito riferimento alla seconda parte di genesi 5 1 ad immagine di dio lo fece bitmut de lo kim a sao to presuppone evidentemente secondo shimon ben asai che il precetto dell'amore per il prossimo si estenda ad ogni essere umano in quanto per l'appunto creato ad immagini di dio quindi semplificando e riassumendo la questione può essere posta nei termini della contrapposizione fra una visione particolaristica più restrittiva e aderente al senso letterale chat del contesto di levitico 19 18 che declina il precetto come obbligo alla fraterna cooperazione fra gli appartenenti al popolo di israele cosiddetto avat israele l'amore di israele è invece poi un afflato universalistico possiamo dire così che parimenti attestato fin dalle fonti più antiche nella letteratura arabilica e che godrà anche di una certa fortuna in epoche successive di notevole interesse rilevanza e anche un altro riferimento al precetto dell'amore per il prossimo come principio riassuntivo del messaggio veicolato dalle scritture ebraiche e si tratta di uno dei più celebri e commentati passi talmudici siamo nel talmud babilonese il trattato di shabbat alla pagina 31a e qui il talmud ci riferisce che un giorno un gentile si recò da shamai e gli disse convertimi a condizione di insegnarmi l'intera torah mentre sto in piedi su una gamba sola quindi in pochissimo tempo shamai viene detto lo scacciò con il regolo da costruttore che aveva in mano lo stesso gentile si recò poi da hillel che lo convertì e gli disse ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo questa è l'intera torah il resto è interpretazione va e studia chiarisco preliminarmente per fornire un minimo di contesto che shamai e hillel sono stati due grandi maestri quasi contemporanei di gesù vissuti pochi decenni prima e figurano nella tradizione ebraica insieme alle rispettive scuole bet shamai e bet hillel come antonomastici rappresentanti di approcci almeno apparentemente antitetici rispettivamente rigoroso e permissivo in proverbiale disaccordo su molteplici questioni esegetico normative e per quanto riguarda il nostro discorso ci sono vari elementi significativi in questo brano mi pare e si tenga presente innanzitutto che una formulazione in forma negativa si trova proprio in levitico 19 e 18 non ti vendicherai e non serberai rancore lo ti conve lo ti tor si noti poi anche che il verbo convertire in ebraico le gaier ha la medesima radice del termine straniero in merito al quale peraltro Deuteronomio 10-19 comanda ed amerete lo straniero perché stranieri foste in terra d'Egitto e levitico 19-34 prescrive sempre in riferimento allo straniero e lo amerai come te stesso con espressione si capisce perfettamente sovrapponibile alla formulazione impiegata in levitico 19-18 e nel passo evangelico il dato più rilevante per noi è tuttavia piuttosto l'invito rivolto da Hillel al neoconvertito perché intraprenda un serio e scrupoloso percorso di studio va e studia ciò pone implicitamente una domanda che è spesso ricorrente nella letteratura rabbinica antica e moderna ovvero se, diciamo così, la palma del primato spetti allo studio della Torah o all'esecuzione dei precetti e la questione apparentemente oziosa perché ambedue gli obblighi sono ovviamente di fondamentale importanza e in realtà centrale può aiutarci credo a comprendere meglio il valore attribuito al precetto dell'amore per il prossimo e più in generale il ruolo dell'etica nell'ebraismo percepito a volte troppo sbrigativamente da prospettiva esterna come complesso sistema di norme e regole riducibile alla sola ortoprassi e basti in questa circostanza ricordare che una delle massime poste che è programmaticamente direi in apertura dei capitoli dei padri che è un trattato della Mishnah interamente dedicato a insegnamenti di carattere etico-morale che peraltro è costume leggere nei giorni dell'Omer tra Pesach e la Pasqua e Shavuot la festa delle settimane recita così è scritto su tre cose poggia il mondo sulla Torah sul servizio divino e sugli atti di carità è divenuta proverbiale questa frase nella tradizione ebraica e si consideri poi un passo talmudico sempre nel trattato del Talmud babilonese nel trattato Kidushin pagina 40b che mi sembra che possa risultare particolarmente illuminante per la nostra riflessione si racconta che Rabbi Tarfon e gli anziani sedevano comodamente nella casa di un tale Nizza nella città di Lod allora che gli venne posta la seguente domanda è più importante lo studio o l'azione? appunto la domanda che ponevamo prima e rispose Rabbi Tarfon l'azione è più importante? rispose Rabbi Akiva lo studio è più importante? tutti risposero e dissero lo studio è più importante perché lo studio conduce all'azione e l'opinione di Rabbi Akiva è appunto avvalorata dalla totalità dei presenti che ne esplicitano però in questo modo faccio notare il tacito ragionamento lo studio è superiore in quanto precondizione imprescindibile per il corretto e compiuto adempimento dei precetti e risulta ora più chiaro spero anche alla luce di questi ultimi riferimenti il significato della garbata ma perentoria ingiunzione rivolta da Hillel al proselito così come appare più comprensibile e coerente il collegamento intertestuale fra Deuteronomio 6 versetti 4-5 Levitico 19-18 esplicitato da Gesù il precetto dell'amore per il prossimo è possiamo dire in altri termini si regola aurea è almeno in certa misura epitome dell'intero canone scritturistico ma proprio in virtù di ciò esso è al tempo stesso meta finale di un percorso di un iter di perfezionamento gnoseologico-spirituale percorribile solo mediante la conoscenza e l'osservanza dell'insieme dei precetti comandati il cui valore viene così rafforzato e non sminuito mi permetto professore di inserirmi in questo ragionamento che lei ha fatto perché penso sia giusto anche spiegare a chi ci ascolta che il dibattito sulla osservanza o comunque sulla possibilità di innestare la predicazione di Gesù all'interno del dibattito anche già presente nell'ebraismo è fondamentale perché non solo questo sarà oggetto anche del famoso primo concilio quello tra gli apostoli perché diciamolo subito io adesso faccio un attimo la parte del di storia del cristianesimo che sarà ben nota a tutti non dico certo niente di nuovo però è fondamentale pensare che il primo concilio abbia sentito il bisogno di dibattere su questa continuità rispetto alla legge proprio l'elemento che salta subito all'occhio valutando questa cosa è che appunto forse Gesù non aveva esplicitato questa frattura quindi è importante ragionare come stiamo facendo noi perché forse appunto la frattura non è stata fatta da Gesù ma poi da chi lo ha da chi lo ha seguito quindi ricordiamolo che questo primo concilio tra gli apostoli si concentrò sull'osservanza della legge quindi anche poi quello che ci hanno anche sempre insegnato e che ci hanno sempre detto è stato Gesù è venuto a compiere la legge quindi compiere in italiano ha un significato di continuità quindi diciamo che questo discorso mi sembrava giusto spiegarlo perché rientra poi alla fine nel nostro anche nell'oggetto della nostra lezione della nostra lezione di oggi e volevo chiederle appunto professore questa cosa che è una curiosità che in realtà esula un po' da quello che ci eravamo detti oggi questo fatto del compiere la legge nell'ebraismo come lo possiamo definire nel senso che il compimento della legge lei aveva già detto forse nella prima lezione la legge è fluida è dinamica come ha detto lei ci sono anche degli aspetti tipo l'informatica che è normale che la legge ebraica si sia dovuta come dire adattare quindi possiamo dire che anche il fatto stesso di compiere e modificare la legge sia parte integrante dell'ebraismo l'abbiamo già detto questo forse sì 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 giustamente l'abbiamo assolutamente già detto posso dire che innanzitutto che concordo con quanto ha detto prima naturalmente il problema credo sia capire dove collocare storicamente questa frattura che evidentemente c'è stata a un certo punto il cristianessimo si è staccato dalla matrice giudaica e quindi appunto il problema è chi ha compiuto questa frattura in che modo in quali tempi e con quali modalità è stata compiuta infatti ci tenevo a specificarlo perché insomma siamo lì ecco volevo spiegare che stiamo non stiamo parlando semplicemente di prassi o di come dire di norme stiamo parlando di un problema epocale perché alla fine è un problema epocale per la storia è un problema fondamentale e a proposito di problemi professore tornando un po' anche alla nostra scarsa e parlo ovviamente di me conoscenza della cultura ebraica la nostra idea sul sullo shabbat insomma sul sabato per noi è un'idea devo dire anche a volte un po' confusionaria ci immaginiamo adesso vado molto sul banale con l'accetta quindi mi dovrà perdonare necessariamente noi ci immaginiamo appunto un riposo un ozium se vogliamo dire un po' fine a se stesso limitato appunto a queste 24 ore e diciamo vabbè ne prendiamo atto però non è che lo capiamo fino in fondo come dire però tornando in serie e tornando proprio al discorso che stiamo facendo l'osservanza dello shabbat da parte di Gesù da quanto emerge nelle fonti bibliche è fondamentale per capire la sua posizione di continuità o discontinuità rispetto all'ebraismo quindi io le chiederei professore di spiegarci nel dettaglio nei modi insomma che lei riterrà opportuni che cos'è lo shabbat nella cultura ebraica e su cosa si fonda come precetto e poi ragioniamo magari su come Gesù sempre dalle fonti o quanto emerge dalle fonti ha inteso questo shabbat e perché molto spesso è stato anche un modo per essere attaccato come dire ah ecco lui infrange tra l'altro lo troviamo anche successivamente nei vangeli apocrifi specialmente dell'infanzia troviamo già Gesù che infrange questo comandamento e il povero Giuseppe faccio adesso mi è venuto in mente il vangelo dell'infanzia di Tommaso che il povero Giuseppe già si doveva giustificare all'inizio proprio Gesù fanciullo quindi a parte questa digressione professore le lascio ovviamente la parola grazie grazie sì ricollegandomi anche a quanto diceva proprio adesso in effetti come abbiamo già detto anche nella lezione precedente una lettura dei vangeli attenta e scevra da sovrastrutture teologico-dogmatiche ci restituisce un'immagine di Gesù diversa da quella che credo sia ancora comunemente diffusa l'immagine cioè di un pio maestro ebreo che osservava la Torah e insegnava ai suoi discepoli a fare altrettanto e in un contesto culturale peraltro quello degli ultimi decenni dell'epoca del secondo tempio in cui il dibattito fra correnti diverse lo abbiamo già detto più volte era molto acceso a volte radicale e alla luce di ciò i passi di discussione e magari anche di esplicita la contrapposizione fra Gesù e Scribi e Farisei assumono mi sembra un valore e un significato diversi da quelli comunemente attribuiti ad essi si tratterebbe in altri termini lo voglio dire subito per introdurre appunto l'analisi di un paio di passi relativi all'osservanza dello Shabbat di discussioni tutte interne all'orizzonte religioso e lato senso culturale ebraico che non comportarono almeno in quel momento una fuoriuscita dall'ebraismo questo mi sembra abbastanza chiaro e il dibattito appunto in merito all'osservanza dello Shabbat che è sicuramente uno dei capisaldi dell'identità religiosa ebraica allora come oggi e ci può forse dare un'ennesima prova a sostegno di questa ipotesi e ci sono diversi passi che sarebbe interessante prendere in esame io vorrei come ho già fatto più volte in passato soffermarmi su un singolo passo di particolare significato e rilevanza e cioè Matteo capitolo 12 versetti da 1 a 8 comunque prima di addentrarci nella della discussione come ha giustamente domandato lei è necessario fare una breve premessa e spiegare in maniera spero chiara e sintetica cosa significhi concretamente osservare il sabato per la tradizione farisaico-rabbinica innanzitutto dobbiamo tenere presenti almeno tre riferimenti scritturistici il primo è Genesi 2 versetti 1 3 e sono i famosissimi versetti con cui si apre il kiddush dopo la formula introduttiva tratta da Genesi 1 31 cioè il versetto precedente va iere va iere va i voker yoma shishi cioè e fu sera e fu mattina giorno sesto che si pronuncia tradizionalmente a bassa voce e il kiddush diciamolo che significa santificazione è una preghiera che viene recitata il venerdì sera quando per l'appunto inizia Shabbat dopo l'accensione dei lumi tenendo nel palmo della mano una coppa ricolma fino all'orlo di vino da cui alla fine si dovrà bere e i versetti sono li ricordo rapidamente furono completati il cielo la terra e le loro schiere cioè ciò che è in essi e Dio terminò nel settimo giorno l'opera che aveva fatto e Dio si astenne nel settimo giorno da ogni opera che aveva fatto e benedisse Dio il settimo giorno e lo santificò perché in esso si era stenuto da ogni opera che aveva compiuto questo è un passo assolutamente fondamentale perché si associa il sabato che etimologicamente dal verbo lishbot significa interrompere smettere si intende di svolgere un'attività in ebraico moderno vuol dire anche scioperare e in particolare associa la santificazione del sabato all'idea dell'astensione dalla melaha per quello ho potuto citarli rapidamente anche in ebraico che a volte viene tradotto come lavoro ma che si riferisce il termine evidentemente all'opera creatrice di Dio siamo all'inizio di Genesi poi c'è un secondo riferimento scritturistico fondamentale che è sotto capitolo 31 i primi undici versetti che qui non sto a citare in cui vengono fornite dettagliate istruzioni per la costruzione del bishkan cioè il tabernacolo e come nota la tradizione esegetica rabbinica viene usato nuovamente il termine melaha lavoro opera che assume qui il senso di opera creativa questo è fondamentale da capire frutto cioè dell'ingegno e della creatività per l'appunto umane capaci di trasformare modificare la realtà il terzo riferimento scritturistico è in realtà duplice ed è il quarto dei famosi dieci comandamenti quarto dico secondo la suddivisione ebraica che troviamo ripetuto due volte con una nella Torah con una leggera ma significativa variante in esodo 28 si trova scritto zachor etioma shabbat le calcio ricorda il giorno di sabato per santificarlo e in deuteronomio 5 12 si dice shamor etioma shabbat le calcio osserva il giorno di sabato per santificarlo in entrambi i casi si ripete poi che bisogna astenersi dalle melahot che abbiamo ormai chiarito essere opere creative nel senso che abbiamo spiegato come i maestri ci insegnano le due espressioni ricorda e osserva sono state pronunciate insieme da dio e udite in un'unica espressione dal popolo ebraico ai piedi dell'arsinai del monte sinai lo scrive per esempio rashì ma in realtà è nozione comune nota ad ogni ebreo osservante si pensi in proposito ad uno dei più famosi popolari canti della liturgia sinagogale del venerdì sera le hado di vieni mio amato composto peraltro da un grandissimo cabalista del sedicesimo secolo in cui si dice non lo canto osserva e ricorda con una sola espressione ci ha fatto udire il dio unico ma cosa significa in concreto osserva si riferisce ai precetti negativi cioè i vieti le opere da cui bisogna astenersi mentre il zachor ricorda ai precetti positivi i comandi come per l'appunto abbiamo citato l'accensione dei lumi il kiddush ma ci sarebbe anche l'abdalah per esempio cioè la preghiera che si recita all'uscita di shabbat eccetera entrambi naturalmente aspetti essenziali e imprescindibili per poter santificare lo shabbat abbiamo forse ora un'idea generale un po' più precisa di cosa sia lo shabbat resta però ancora da definire quante e quali siano in pratica le melakot e diciamo subito che la tradizione rabbinica ne identifica 39 chiarendo si tratta di categorie di opere ognuna delle quali racchiude in sé una serie di azioni proibite faccio solo alcuni esempi c'è kotev per esempio scrivere bonè costruire mavir machabè cioè accendere o spegnere si intende un fuoco oza' cioè trasferire da dominio privato a dominio pubblico e viceversa eccetera in particolare a noi interessano qui per poi leggere il passo evangelico una serie di melakot per esempio zorea piantare koresh arare meamer raccogliere eccetera che riguardano le attività agricole e in particolare due kozer mietere che va inteso in senso lato come qualunque attività volta a separare la pianta dalla sua fonte di nutrimento cioè il terreno e dosh trebbiare anche qui da intendersi in senso lato come attività mediante la quale si separa la parte edibile dal resto aggiungo anche per far comprendere meglio il senso è la logica implicita nel dibattito che la normativa della tradizione farisaico-rabbinica tende ad essere in generale più restrittiva rispetto alle prescrizioni bibliche questo ha lo scopo di evitare di commettere anche inavvertitamente una trasgressione faccio un esempio per chiarire meglio il concetto si pensi alla prima Mishnah di Berakot trattato sulle benedizioni che è a sua volta il primo trattato del primo ordine del Talmud quindi è la prima pagina in assoluto del Talmud molto significativo e parlando dell'orario della lettura dello Shema di sera i maestri concludono che ci sarebbe tempo fino all'alba per leggerlo secondo l'opinione Rabban Gamliel tuttavia impongono che si legga entro la metà della notte e quindi di fatto prima di andare a dormire perché altrimenti bisognerebbe svegliarsi a metà della notte e spiegano molto chiaramente la ragione per questa restrizione ulteriore rispetto al precetto biblico ed è scritto appunto nella prima Mishnah di Berakot per allontanare l'uomo dalla trasgressione dico ciò perché il nostro brano parla dell'attraversamento di campi di grano di Shabbat e poi anche se non è scritto esplicitamente c'è chi ha sostenuto che potrebbe configurarsi qui un problema di OTSA cioè di trasferimento di un oggetto da un dominio ad un altro dominio chiarisco in estrema sintesi lo so che è un pochino complicato ma come dicono gli inglesi bear with me restate con me ci sono quattro domini il reshut ayahid cioè il dominio privato che è qualunque area di quattro per quattro tefahim un tefah corrisponde a una misura compresa fra otto e dieci centimetri è circondata da muri di almeno dieci tefahim può essere anche un buco nel terreno ma anche un pozzo di quelle dimensioni poi c'è il reshut arabim il dominio pubblico cioè una strada larga almeno sedici amot è una ma corrisponde ad una misura fra 50 e 60 centimetri circa in cui secondo alcuni c'è una grossa disputa in proposito dovrebbero passare 600.000 persone ogni giorno c'è poi il carmelit ovvero qualunque area di 4x4 tefahim con muri di altezza inferiore a 10 tefahim ma anche luoghi e sarebbe questo il caso di cui parla il Vangelo luoghi non delimitati e non destinati al pubblico per esempio fiumi laghi o per l'appunto campi e infine c'è il macompatur luogo essente che in questo caso non ci interessa faccio notare che per prescrizione rabbinica è vietato portare un oggetto o passarlo ad un'altra persona che si trovi in un dominio diverso o anche solo lanciarlo da dominio pubblico e o privato anche a carmelit e viceversa e altri commentatori fanno notare che si potrebbe configurare qui anche un altro problema il cosiddetto tehum shabbat limite di shabbat di che si tratta ad un ebreo è permesso camminare liberamente di shabbat soltanto all'interno dei confini della città in cui si trova e si può procedere al di fuori dell'area abitata in qualunque direzione solo per 2000 cubiti ora è anche un problema definire quanto sia esattamente 2000 cubiti perché viene scritto un miglio ma non si sa esattamente quanto sia poi un miglio lo shulkanaruk ad esempio scrive che è la distanza percorsa a piedi in 18 minuti ma è un'indicazione soggettivo poi problematica l'unico modo per aggirare in questo caso il divieto è l'eruv tehumim ovvero l'accorgimento di lasciare in precedenza del cibo in un luogo stabilendovi così dominio temporaneo dal punto di vista lachico e consentendo di camminare in un'area di 2000 cubiti dal luogo in questione in cui si è lasciato il cibo non è certamente però questo il caso perché per l'appunto i discepoli come vedremo fra un attimo strapparono delle spighe perché avevano fame quindi non avevano altro cibo e analizziamo ora finalmente il passo evangelico tenendo però presente quanto per quanto possibile mi permetta professore solo di dire che altro che altro che problema superficiale è un problema veramente difficile per cui ha ragione cioè ha fatto proprio bene a farci questo questa serie di accorgimenti perché è veramente difficile se no comprendere come mai è un progetto tanto importante è necessario certo è necessario grazie sì in Matteo 12 quindi dicevamo ai versetti 1-8 si racconta qui ovviamente parafraso che Gesù stava attraversando di sabato dicevamo dei campi di grano e che i suoi discepoli che si specifica va di bene ebbero fame vedremo che questo è un elemento fondamentale si misero a strappare delle spighe e a mangiare alcuni farisei che avevano assistito alla scena gli dissero che i suoi discepoli stavano facendo ciò che non era lecito fare di sabato e Gesù risponde con un riferimento scritturistico e dice non avete letto quello che fece Davide re Davide quando ebbe fame egli insieme a coloro che erano con lui e aggiunge come gli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui perché erano destinati ai sacerdoti e il dibattito si conclude poi con la famosa frase perché il figlio dell'uomo ancora ritorna questa locuzione è signore del sabato ribadisco che qui io non voglio dare un'interpretazione del passo bensì solo fornire se mi riesce informazioni che aiutino possibilmente gli ascoltatori a farsi un'idea più precisa dei dati culturali nel caso specifico alachici che sono sottintesi e impliciti nella discussione perché sono noti ovviamente a tutti gli ebrei osservanti quali erano certamente i protagonisti e vorrei innanzitutto far notare che Gesù nella sua risposta non contesta né la normativa farisaica a proposito dell'osservanza del sabato che ho cercato di esporre nei suoi principi generali né a maggior ragione l'obbligo di matrice biblica che come abbiamo notato è più volte ripetuto nella Torah la discussione verte piuttosto mi sembra quanto evidente sulle circostanze che permettono eccezionalmente di non osservare un precetto che dunque si deduce logicamente in circostanze normali va osservato e come ho spiegato nella seconda lezione a cui rimando agli ascoltatori ci sono alcuni versetti che vengono interpretati nella tradizione rabbinica come comando a vivere secondo la Torah non a morire per essa per esempio l'Elitico 18.5 prescrive osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà in altre parole come regola generale non si è tenuti quello che dicevamo a proposito del del kiddushashem a morire per osservare un precetto anzi è proprio vietato ed è la regola appunto del piquach nefesh di cui abbiamo lungamente parlato le uniche eccezioni sono lo ricordiamo omicidio idolatria e unioni proibite si può quindi compiere una trasgressione ad eccezione di quelle citate e fare per esempio una melaka di shabbat per salvare una vita Maimonide aggiunge un elemento che per noi è molto rilevante sempre in Mishneh Torah ripetizione della Torah che è il primo grande manuale alachico scrive Maimonide dare cibo ad un ammalato consentendo o anche solo accelerandone la guarigione rientra fra i casi di piquach nefesh cioè salvare una vita trasgredendo questo è ciò che intende mi sento di dire Gesù con il riferimento all'episodio di cui sono protagonisti re Davide e i suoi uomini e che ci fosse pericolo di vita in quel caso è abbastanza chiaro contestualmente se si legge l'intero capitolo 21 del primo libro di Samuele a cui allude esplicitamente Gesù peraltro questo è interessante anche la tradizione rabbinica successiva penso al trattato Menachot sulle offerte di cibo alle pagine 95b 96a discute di questa questione e conclude che in questo caso proprio quello di di re Davide e dei pani destinati ai sacerdoti vi era pericolo di vita e dunque era consentito compiere una trasgressione bene ma come leggere però alla luce di quanto abbiamo detto Matteo il versetto 8 cioè l'espressione signore del sabato che qualcuno ha interpretato come libertà di fare ciò che si vuole di Shabbat quindi di fatto un'abolizione di tutta l'alahah sull'osservanza del sabato diciamo che nel Talmud babilonese nel trattato di Yomah che ho già citato dedicato a Yom Kippur al giorno dell'espiazione alla pagina 85 Amudalef Amubbet cioè verso il recto viene riportata un'opinione di Rabbì Yohanan Ben Yosef ci si riferisce qui all'interpretazione di Esodo 31 14 in cui è scritto Kikodeshi Lachem perché sottointeso il sabato è santo per voi e dice questo maestro questo passo vuol dire è stato dato a voi e non voi adesso che già richiama molto diciamo così il senso quantomeno se vuole l'espressione di Gesù è lo signore del sabato voi dovete è questo il ragionamento che viene spontaneo fare almeno a primo acchitto sì sì e c'è poi una seconda opinione che credo sia rilevante per il nostro discorso che è quella di Rabbi Shimon Ben Benassia qui il riferimento testuale è adesso do 31 16 dove è scritto Beshamru vene Israele ta Shabbat i figli di Israele osserveranno il sabato e dice questo secondo maestro si può profanare un sabato per osservarne molti ovvero ancora una volta la regola generale del Bikua Chnefesh in altri termini dal contesto e abbiamo visto da fonti multiple sembra che si possa stabilire almeno quanto segue primo Gesù non esprime l'intenzione di abolire dell'osservanza dello Shabbat secondo la discussione riguarda un caso specifico in cui è consentito trasgredire tra l'altro questa lo faccio notare sarà poi la lachà codificata e accettata anche dall'ebraismo rabbinico terzo il dibattito è logicamente comprensibile solo se si considera che Gesù era ritenuto dai farisei un maestro cioè un pio ebreo osservante che insegnava la Torah altrimenti non ci sarebbe stata alcuna discussione alachica fra di loro quarto i seguaci di Gesù osservavano regolarmente lo Shabbat e continuarono a farlo anche dopo la sua morte e si pensi ad esempio a Luca 23 ai versetti 54 e 56 in cui viene detto era il giorno della Parasceve Parasceve la preparazione cioè il venerdì che è il giorno di preparazione materiale spirituale al sabato e già splendevano le luci per appunto del sabato e si aggiunge poi tornarono indietro prepararono aromi e oli profumati e il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento tanto è vero che c'è tutto il dibattito insomma aperto anche sulla sepoltura di Gesù come mai è stata fatta in quel giorno quindi per dire come ha ragione lei che è un problema che l'ha sentito e poi se mi permette professore una curiosità adesso anche io non ricordo il versetto però questo stesso tema relativo all'osservanza dello sabato da parte di Gesù è riferito anche alle guarigioni cioè la guarigione in sé si può ritenere una diciamo un'infrazione del precetto perché come diceva lei se c'è un motivo di vita rientra in quello che dicevamo no? Certamente è un caso di Piquach Nefesh questo mi è venuto spontaneo chiede giusto sì sì ma infatti queste indicazioni che ho creduto opportuno dare forse un pochino troppo dettagliate spero non noiose comunque servono mi auguro anche ai nostri ascoltatori per poter leggere poi anche loro in maniera autonoma e comprendere meglio tanti passi che ovviamente non ho potuto citare per ragioni di tempo e in conclusione vorrei sfatare un luogo comune cioè non è affatto vero che la regola del Piquach Nefesh salvare una vita trasgredendo lo ripetiamo ancora si applichi solo per salvare se stessi o un altro ebreo e ricordo di aver letto anni fa un episodio che mi colpi molto relativo alla delegazione Zaka che sono delle squadre volontarie di soccorso israeliane composte principalmente da ebrei ortodossi e hanno operato anche durante lo Shabbat proprio nella capitale haitiana di Porto Trenz subito dopo il terribile terremoto del 2010 che forse qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà e uno di loro alla gente che chiedeva perché fossero lì dal momento che non vi erano ebrei rispose noi siamo qui perché la Torah ci ordina di salvare vite e siamo quindi orgogliosi di trasgredire per questo lo Shabbat quindi questo è chiaramente un elemento che ancora di più ci aiuta a comprendere che la regola è sì come ha fatto giustamente riferimento lei normativamente complessa e poi regolata da secoli vogliamo essere anche insomma un po' più andiamo a difetto diciamo secoli di dibattito però ovviamente è anche poi tarabile e regolabile in base alle contingenze che forse è un po' quello che senza volere appunto dare come diceva lei letture certe però è un'ipotesi verosimile ritenere che Gesù stesso pensasse che fosse appunto trasgredibile in base alle necessità e poi ricordiamo sempre che il punto di vista dei farisei insomma è sempre nei Vangeli molto esasperato quindi forse essendo anche un discorso ebraico probabilmente non tutti ritenevano che a prescindere non si potesse trasgredire lo sciabato o comunque se non per motivi diciamo importanti o comunque valevoli e meritevoli vorrei introdurre adesso professore in conclusione l'ultimo tema l'ultimo grande tema di questa puntata che tra l'altro ne abbiamo discusso anche col professor Lupieri parlando della figura di Giovanni il Battista e del rapporto tra Giovanni il Battista Gesù e l'Ebraismo ed è anche tra l'altro ne approfitto per ricordare uno dei volumi che abbiamo messo anche in come dire in evidenza per coloro che ci stanno seguendo di Mayer e mi sembra che sia il volume numero 3 quello sui Mentori di Gesù in cui si parla e poi ne ha parlato anche il professor Lupieri nei suoi scritti dei problemi legati ai principi di impunità e punità rituale che rappresenta sicuramente anche qui nella vulgata come abbiamo forse già accennato uno dei motivi che normalmente tendono a distinguere cristianesimo ed ebraismo ovvero l'ebraismo molto legato a norme relative a questi temi mentre il cristianesimo un po' più libero se vogliamo dire ecco quindi la domanda che le faccio è anche qui esiste nell'ebraismo questa grossa frattura rispetto al cristianesimo oppure è frutto di una percezione di una lettura a posteriori o comunque diciamo anche etnocentrica dal punto di vista culturale certamente grazie è un tema lo ha detto anche lei di enorme rilevanza iniziamo a dire tanto per la storia del protocristianesimo quanto naturalmente per l'ebraismo e per quanto riguarda i Vangeli abbiamo vari passi significativi penso ad esempio all'episodio della guarigione dell'ebroso in Marco 1 ai versetti 40-45 al versetto 44 in particolare sono riportate delle parole di Gesù che io trovo molto significative dice Gesù dopo averlo guarito guarda di non dir niente a nessuno ma va presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato e qui il riferimento è al rituale di purificazione in particolare di colui o colei che era afflitto da una malattia che nella Bibbia viene chiamata Zarat termine comunemente tradotto come lebra e descritto in dettaglio intendo il rituale di purificazione in Levitico 14 evidentemente quindi Gesù non intendeva abrogare queste prescrizioni e penso poi soprattutto alla famosa e pura controversia sul lavaggio rituale delle mani netilatia daim letteralmente sollevamento delle mani in Marco 7 all'inizio i primi sei versetti viene detto che i farisei e gli iscrivi provenienti da Gerusalemme videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde e qui da intendersi non necessariamente nel senso di sporche bensì non lavate secondo le regole prescritte e cioè quali sono le regole prescritte magari diciamolo bisogna lavarsi prima accuratamente le mani fino all'avambraccio rimuovendo ogni impedimento come anelli e bracciali questo vale anche per poi la tevillà nel mikveh cioè il bagno rituale poi nel caso del lavaggio delle mani versare da una brocca dell'acqua due volte sulla mano destra e poi due volte sulla mano sinistra per i mancini vale l'inverso tra l'altro c'è un costume del cassidismo chabad che è quello di farlo tre volte su ogni mano non due questa è una curiosità e infine si recita la relativa benedizione al metilati ad haim e lo si deve fare peraltro in in occasioni diverse non solo nel caso più tipico che è quello del pasto con pane e a volte anche senza benedizione anche qui ci sono tanti casi non possiamo entrare qui nella normativa latica questo così solo per esplicitare un po' il sostrato implicito e il testo evangelico prosegue infatti informando che i farisei e tutti i giudei viene detto non mangiano se non si sono lavati le mani fino al gomito come dicevamo attenendosi alla tradizione degli antichi viene detto si aggiunge però un particolare interessante nel testo evangelico tornando dal mercato non mangiano in riferimento agli ebrei in generale in particolare ai farisei senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri stoviglie e oggetti di rame e ci si riferisce qui bisogna spiegarlo alla tevilat kelim cioè il lavaggio degli utensili bisogna chiarire che oggetti di forme e materiali diversi hanno qualità diverse in riferimento alle regole di purità e impurità faccio solo qualche esempio c'è una distinzione basilare fra utensili piani ad esempio un coltello e utensili cavi che hanno cioè una cavità che può accogliere un cibo o una bevanda per esempio un piatto fondo o un bicchiere nel primo caso gli utensili piani se è di metallo e un oggetto impuro lo tocca diventerà impuro se è di terracotta o vetro resterà puro nel secondo caso che sono gli oggetti con cavità dipende se l'oggetto impuro lo tocca da fuori o da dentro per esempio se un oggetto impuro entra in contatto con la parte esterna di un oggetto di metallo quest'ultimo diventerà impuro se tocca la parte esterna di un oggetto di terracotta quest'ultimo resterà puro se invece qualcosa di impuro non so una mosca per esempio entra all'interno e il contrario cioè l'utenzione di metallo sarà puro e quello di terracotta impuro e così via sono regole molto precise e si noterà abbastanza complicate ne abbiamo discusso si ricorda quando abbiamo parlato con il professor Lupieri del famoso del cibo di Giovanni Battista delle cavallette del favo insomma tutto mi permetta di approfittarne per no per rimandare gli ascoltatori alle eccellenti lezioni del professor Lupieri che ovviamente trattano di questo tema in maniera molto più molto più diffusamente e da prospettiva cristiana quindi sono anche complementari a a questa a questa nostra lezione di oggi e dicevo prosegue poi il testo del Vangelo i farisei e gli iscrivi lo interrogarono chiedendogli perché i suoi discepoli non si comportassero secondo la tradizione degli antichi e prendessero il cibo con mani immonde abbiamo capito tutti a questo punto spero che tumai tara cioè impurità e purità non equivalgono in alcun modo a malvagità e bontà l'impurità è parte della vita di ciascuno in particolare di un ebreo osservante e circostanze diverse della vita quotidiana comportano inevitabilmente impurità non solo a volte è necessario diventare temporaneamente impuri per compiere una mizvah faccio solo un esempio i rapporti sessuali fra marito e moglie a scopo procreativo non solo sono permessi ma sono comandati da Dio Genesi 1 28 siate fecondi e moltiplicatevi e naturalmente i rapporti rendono temporaneamente impuri peraltro ugualmente l'uomo e la donna i quali devono poi secondo Levitico 15-18 sottoporsi al bagno rituale di cui parlavamo poc'anzi te vilane e il mikveh anche in questo caso ci sono regole molto precise e dettagliate una volta fatta la te vilane verranno reintegrati in uno stato di per esempio se sono nel caso dei quanim dei sacerdoti che forse può interessare legato anche alla purità templare sono dicevo reintegrati in uno stato di parziale purità che gli permette per esempio di mangiare la terumà che è il cibo offerto ai sacerdoti anche se poi il giorno dopo dovevano comunque portare un'offerta al tempio per completare si dice la loro cappara la loro espiazione ma vediamo qual è la risposta a questo punto di gesù e gesù ancora una volta risponde con una citazione scritturistica e una risposta molto nota dice gesù bene ha profetato di voi isaia voi ipocriti come sta scritto e cita isaia 29 13 questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me in vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini ora isaia certamente non aveva intenzione di distaccarsi dall'ebraismo si tratta piuttosto e questo mi pare anche il senso delle parole di gesù di un invito anche giustamente perentorio a concentrarsi al di là di tanti dettagli relativi all'osservanza che anche qui non viene contestata nel merito e dunque viene implicitamente validata appunto l'ingiunzione è a concentrarsi piuttosto su un'osservanza fondata innanzitutto sulla cavana sull'intenzione del cuore e proprio questo sarà tra l'altro un argomento al centro della letteratura rabbinica antica e poi moderna se cioè sia necessaria la cavana per compiere propriamente una mizvah un precetto e come si suol dire uscire d'obbligo e concludo dicendo che nella saggistica specialistica ci si è soffermati di frequente su questi ed altri passi correlati cito ad esempio tra le opere recenti che mi fa piacere segnalare ai nostri ascoltatori Handbook for the Study of the Historical Jesus che è un testo del 2010 manuale per lo studio del Gesù storico curato da Stanley Porter e Tom Holman dove c'è tra l'altro chi ha sostenuto a proposito del nostro discorso un'interessante ipotesi alternativa ovvero che la novitas rivoluzionaria che avrebbe portato Gesù sarebbe il principio secondo cui il puro rende l'impuro puro invertendo l'ordine alattico consueto che naturalmente è ciò che impuro rende impuro ciò che è puro sembra un sito di parole ma spero di essermi scusato è interessante anche la proposta critica di Michael Byrd secondo cui i testi evangelici ridefiniscono l'idea di purità rituale in prospettiva escatologica abbiamo parlato al libro di messianismo avendo come riferimenti scritturistici impliciti i vari versetti e Byrd dice per esempio Zaccaria 13 1 Zaccaria 14 8 che è ancora più interessante in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno vorrei poi citare così davvero in conclusione Jakob Neusner che è un autore molto molto noto specialista di questi temi che in un volume che è diventato un classico della saggistica sull'argomento che è The Idea of Purity in Ancient Judaism l'idea della purità nel giudaismo antico del 1973 se non vado errato sostiene che i farisei come la comunità del mar morto quindi introduciamo indirettamente anche l'argomento di la quinta lezione osservassero le regole di purità rituale anche al di fuori del tempio come i kwanim cioè cioè i sacerdoti che dovevano ad esempio mangiare il cibo loro destinato abbiamo nominato più volte Terumah solo in condizioni di purità altri ebrei invece osservavano queste prescrizioni solo nel tempio quindi chiarendo i farisei avrebbero imposto al proprio gruppo secondo Neusner estendendo in teoria questo precetto a tutti gli ebrei regole che valevano solo per i sacerdoti o per tutti ma solo fin tanto che erano nel tempio e cito e davvero con questo concludo che potrebbero fornire un appoggio testuale anche a questa ipotesi anche altre fonti rabbiniche per esempio in Shabbat 14a si dice che tutti gli ebrei sacerdoti e non si dovevano lavare le mani nel caso di pasti con pane anche quando si trattava cioè di pane ordinario e non terumà il cibo sacerdotale e perché questo proprio per dare un esempio ai sacerdoti che spesso non erano ligi come avrebbero dovuto ai precetti e nella Tosefta cioè l'aggiunta rimasta fuori dalla compilazione della Mishnà di Berafot 6.3 viene riportata poi l'ennesima disputa fra Shammai e Hillel e significativamente in un caso di dubbio le mani erano considerate da Hillel pure dunque non bisognose di lavaggio rituale in qualche modo no un'opinione vicina sembra a quella che emerge dalle parole di Gesù siamo giunti infine in conclusione della nostra quarta lezione la seconda parte del blocco centrale del nucleo del nostro ciclo di lezioni ovviamente dedicato al Gesù storico di cui abbiamo riletto la predicazione alla luce della tradizione ebraica ovviamente ma anche di tutti quei precetti di ortoprassi che ormai avete imparato a conoscere per coloro che ci hanno seguito fin dall'inizio quindi sono molto orgoglioso di quanto vi abbiamo potuto mostrare fino a questo momento vi invito ad ascoltare la prossima puntata anzi le prossime due che sono poi quelle conclusive per questo ciclo ma ovviamente avremo ancora disponibile il professor di Taranto che gentilmente ha rinnovato insomma la sua volontà di collaborare con noi parleremo degli esseni ovviamente tutti voi conosceranno Qumran e quanto è stato scoperto a Qumran quello che cercheremo di affrontare col professor di Taranto è lo status questionis quindi analizzeremo anche le varie interpretazioni che la storiografia ha prodotto all'interno del mondo accademico sul valore sul significato e soprattutto sui rapporti tra gli esseni e le altre religioni mi riferisco in particolare ai rapporti col cristianesimo di cui alcuni hanno visto insomma gli esseni come precursori mentre per altri gli esseni si mantengono pienamente all'interno del giudaismo ovviamente poi ci saranno come avremo modo di vedere anche tutti coloro che riterranno che addirittura gli esseni erano più vicini a quello che chiameremo giudeo cristianesimo però non vi anticipo altro perché ovviamente lascio spiegare molto meglio di quanto potrei fare io al professor di Taranto quindi restate con noi per i prossimi appuntamenti mi raccomando condividete commentate perché insomma il vostro parere è sempre molto importante per i prossimi appuntamenti